L'amministrazione comunale di Campomarino a sostegno del San Timoteo, buona parte dei fondi destinati alle festività natalizie, è servita per una nobile causa. Il budget è stato devoluto all'acquisto di un ventilatore polmonare per l'ospedale di Termoli. Sono mesi che tutte le amministrazioni sono impegnate nel coordinare delle azioni per combattere il coronavirus e per fare aderire la popolazione a quelli che sono i DPCM vari. Noi stiamo vivendo questa situazione da oltre dieci mesi. In occasione di queste festività ci è ritornato subito in mente il coronavirus, al di là delle luminarie, dei presepi che vorremmo fare e delle tante altre cose che vogliamo fare. Però non possiamo dimostrarci che questo è un momento particolare, un momento particolare che ci vede tutti quanti impegnati, soprattutto le strutture ospedalieri, i medici, gli infermieri. Il ventilatore polmonare è stato consegnato dal sindaco Pierdonato Silvestri davanti all'ospedale nel punto triage nelle mani del primario del pronto soccorso Nicola Rocchia. Devo dire che sono fortemente, quasi commosso dell'azione, dell'intervento che hanno fatto gli amici del Comune di Campomarino, che rientra per fortuna, devo dire, in una serie di donazioni che abbiamo ricevuto in questi ultimi tempi a dimostrazione della generosità notevole di tutto il popolo definirei basso molisano. Questo è un bel ventilatore, un apparecchio che veramente ci sarà utile, ci sarebbe anche stato utile molto più già da qualche mese se avessimo avuto la possibilità di averlo. È una cosa molto importante che nei pazienti con grave insufficienza respiratoria, tipica di quelli che sono colpiti da Covid, ne trae veramente beneficio. Spesso dobbiamo andare avanti con le donazioni, questo è una cosa che è relativamente giusta, però è veramente un bel regalo e io devo veramente ringraziare l'amministrazione di Campomarino che si è fatta portatrice di questa idea. L'emergenza sanitaria è sotto gli occhi di tutti, al pronto soccorso gli sforzi per fronteggiare le difficoltà sono notevoli. In questo momento devo dire che sta andando un po' meglio, sta andando un po' meglio, c'è un lieve calo degli accessi per patologia da Covid, oltre a fianco un calo degli accessi per patologia non Covid perché la gente è tutta impaurita, però diciamo che reggiamo il colpo in questo momento. A Campomarino è stata inoltre aperta una raccolta fondi cittadina proprio in favore dell'ospedale termolese. Chiunque voglia fare una donazione e offrire il proprio contributo in questo momento di difficoltà può di fatto rivolgersi all'assessorato alle politiche sociali del Comune.